ed eccoci qui al quinto gameplay ragazzi sempre noi di gamesquare io libertador clay e shepard come ospite non gradito e questa volta farei il mostro ciao a tutti questa volta le sorti del mostro toccano al nostro shepard io mi prendo un bel lazarus il medico che non mi è stato atto simpatico però lo provo un pochettino e shepard è indeciso questa è la modalità è salvataggio quindi bisogna salvare dei coloni che vengono lanciati sul nostro pianeta coloni sul nostro anzi le coloni che si trovano sul pianeta semmai si trovano non lo so non l'ho mai fatta sta modalità quindi non lo so l'ho fatta giusto una volta così potenzia cacciatore intrappola il mostro e danneggia il mostro cosa prenderò non lo so perché facciamo a casaccio ok ha preso l'assalto così a cavolo hide non l'ho mai giocato com'è quello che ti sta bruciando nel gameplay precedente che tu hai vinto in maniera disonorevole certo certo chi perde sempre deve trovare scuse per aver perso veramente le scuse c'erano e come farò sotterrare i coloni si 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 che c'è il tutorial di hide usare la granata tossica per far uscire il mostro da una zona vantaggiosa ricorda di usare lo scudo personale interessante ganzo non deve essere mare uccidiamo quel polipone comunque questa sarà una partita che che parte dovrà gestire con difficoltà perché questa modalità è abbastanza a vantaggio dei dei cacciatori facciamoci nella voliera guardate che volo il cane col paragatota è fantastico bellissimo ok ragazzi salviamo la gente uno sta di qua localizza i sopravisuti molto interessante oh cavolo eh che è successo eh sapesse eh ma mi lasciate da solo dove cavolo sei c'è desi c'è desi eh sì che puoi andare al mostro da solo è un crack stiamo dividendo ecco ecco eh che diavolo tutti sti mostri dai 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 vetti in arrivo dai l'ho salvato c'è l'incirchio c'è l'incirchio eh questo che c'è guarda arriva da me questo ma la letta sta per arrivare però me dovete da una mano non è che andate da dove capito ma io non riesco a capire dove cavolo sei eh guarda lo dovresti vedere ah sì a 100 miliardi di chilometri ecco dove dovresti essere anche tu tra l'altro però vabbè sì sì ma so particolare ma già lo stadio 2 è il tizio penso c'è spacca eh ok navetti in arrivo vai ma lo so l'ho fatto apposta per fargli fare gli stati velocemente a lui c'è tanta fauna good fauna localizza sopravvissuti ce ne stanno altri vieni di qua mi sto dietro al culo fatti vedere è bello Lazarus fai vedere i modelli in gioco ecco magari stando fermi su di me vabbè dai non mi posso fermar eh grazie lo sapevo gioco evolve da poco però lo so un albino un albino dai muori 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 cosa dai tutte le cose visibili entro una distanza di 40 metri tutte le creature oh eccolo vedo Shepard ho indebolito la sua corazza ho indebolito la sua corazza bravo bambino indebolito la sua corazza che bravo dai io però me ne fotto parati di voi io sono un medico e devo andare a curare la gente mi spiace mostra velocità di nutrizione vera ma sono avvissuto vedete qui qui c'è il buon Lazaro il nuovo il nabo di Antonio colpisce... i... 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 i! Dai, dai I sopravvissuti fa veramente schifo La vette in arrivo Ma che state morendo tutti, per caso? No, sono morti i compari Ma il navetto sta per arrivare Dove cavolo sei? Eh, io sto qua da Shepard Sei qua da Shepard Ah, buh, cosa buona, sì Ti provo, ti serve una mano Eh, sì, tu ti fai tanti da solo E questo è Io ero contro Shepard due secondi fa E' il dispositivo è pronto E' il dispositivo è pronto Dai, dai Tu avrai il dispositivo pronto Per io essere caduto a terra Io essere come extraterrestre Pura giù, ma i vecchi Tu ammori a me Vai Io essere so proprio sotto a moto Porca troia Prese il controllo della sposa qua Del coglione morto Bravo Si sparo con le pistoline Salva due sopravvissuti Ok Eh, ho come impressione che siamo un po' morti Ma io sto sempre vivo Vabbè, tanto arriva subito dai rinforzi Quindi Lo so che volete in proietta a scudo L'ho portato Lo so che volete in proietta a scudo L'ho portato Sei minuti trascorsi E' possibile vedere anche con T Sia il Sia il ping che hanno i nostri compagni Sia il ruolo che il tempo passato Tenendo premuto T Ok, io mi ritorno al mio caro vecchio amicone Con il mitraione Qualcuna terra laggiù Eh, lo so Eh, io sto curando la gente, ma Perchè? Ho il supporto Non lo so Non puoi resistere Eccolo Qualcuno dire a me perchè io avere il supporto Eh, no, però Shepard proprio qua E questo pure di livello 3 Ci spacca proprio Mi sa che l'ha vantaggio troppo con la fauna Che dici? No Impressione Vedete? Sparate lì Trappole pronte Sparate lì Mi promette per quanto Crei non sta a fare niente Sì, non sto facendo niente Sì, non sto facendo niente Sì, certo Me lo dicono tutti Questo sta ma se sopravvissuti Sono morto Non muori sempre Eh, muoio sempre Eh, se fa Perché non metti Il canone sta a fare niente Ok, come rinun satu Mince il mostro VINCE il mostro VINCE IL MOSTRO Eh, che cazzo Ecco hai perso delossip Ci ha spaccato il culo Ehi ma vabbè Ho avuto Ho avuto Ho avuto La fauna Meno male che eravamo noi che trovavamo scuse prima No Aspetta che quello l'ho fatto veramente E se vuoi ti faccio vedere le impostazioni L'unica cosa che ho messo a vantaggio nostro Che poi vantaggio tra virgolette E' che c'era il sole Però con il claken E' inutile che c'è il sole Perché il claken emette luce Quindi anche al buio, anzi si vede meglio al buio che la luce Quindi probabilmente Quindi ho dato più vantaggio a lui che a noi Va bene dai ragazzi Nelle impostazioni Con questa strage di cacciatori si conclude Il gameplay su Evolve E vediamo appuntamento Ai prossimi che effettueremo sempre Se non con questa gombricola Con parte di essa Un saluto ragazzi Ciao Ciao ciao